Quindicesimo finalista, 253 di testiera, Checks Up the Stars, figlio di New Checks to Cash e Starlight Skate, in sella, Eugenio Latorre, cavallo di proprietà di Roberto Marabini, al cancello 225. Questo è l'exhibito numero 253, seguito dal numero 225. Eugenio Latorre, in sella, Eugenio Latorre, in sella, Eugenio Latorre. Eugenio Latorre. Eugenio Latorre, in sella, Eugenio Latorre, in sella, Eugenio Latorre. Eugenio Latorre, in sella, Eugenio Latorre. Ehi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.